Nell'anno in cui ricorrono i 150 anni della fondazione del Corpo degli Alpini, il 32esimo Guastatori ha avuto l'occasione, grazie all'ottima collaborazione col Comune di Fossano, di celebrare la festa dell'Arma del Genio in piazza, in modo anche da far conoscere le realtà professionali che tutti i giorni operano sul territorio piemontese, anche alla cittadinanza che gentilmente ci ospita in questa città. Grazie a tutti! A celebrare la festa dell'Arma del Genio a Fossano con i Guastatori Alpini del 32esimo è veramente una grande emozione, perché qui si respira una grandissima integrazione con il territorio. Grazie a tutti!